Buon pomeriggio e benvenuti Buon pomeriggio e benvenuti al quarto appuntamento con il ciclo di webinar I pilastri del green europeo, vivere la sostenibilità organizzato dal centro Europe Direct Università degli Studi Roma 3 in collaborazione con i centri Europe Direct di Chieti, Siena e Puglia Con questa iniziativa vogliamo esprimere e valorizzare gli obiettivi del green deal europeo attraverso le esperienze dei cittadini che con le loro vite e le loro specifiche professionalità danno forma agli obiettivi di sostenibilità ambientale I centri Europe Direct svolgono proprio questa funzione di promuovere la consapevolezza e il dibattito sulle politiche dell'Unione Europea e lavorano in rete su tutto il territorio nazionale e in costante dialogo con la Commissione Europea e il Parlamento Europeo Le nostre iniziative, quale quella di oggi, si inseriscono tra le attività volte a promuovere la conferenza sul futuro dell'Unione Europea e la relativa piattaforma su cui i cittadini possono esprimere le proprie idee e proposte per l'Europa di oggi e di domani Per questo ringrazio molto per l'organizzazione di questo evento per la collaborazione e per il sostegno offerto a questa iniziativa al dottor Fabrizio Spada amministratore dell'Ufficio in Italia del Parlamento Europeo e alla dottoressa Angelita Campriani responsabile del centro Europe Direct di Siena a cui chiedo di presentare i saluti delle rispettive istituzioni Prego Fabrizio Spada, dottor Spada Prego Può accendere il microfono gentilmente? Grazie Eccoci Grazie a dottoressa Moschetta È stato veramente un piacere per me aderire al vostro invito Mi fa molto piacere essere con voi questo pomeriggio Devo dire che lo Europe Direct a Roma 3 si sta mostrando come uno dei più dinamici tra i nostri Europe Direct Come lei ha anticipato, questa conferenza di questo pomeriggio si inserisce nell'ambito della conferenza sul futuro dell'Europa e fa parte di un ciclo di quattro conferenze che ha per oggetto la sostenibilità Sostenibilità, quindi il Green Deal europeo che come sapete per l'Unione Europea è un capitolo estremamente importante Ora, pur essendo l'Unione Europea artefice solamente dell'8% a livello mondiale delle emissioni negative l'Unione Europea stessa ha predisposto un'agenda molto ambiziosa che prevede che per il 2050 non ci siano più emissioni generate da gas a effetto serra e tutto questo dovrebbe essere anche un motore per lo sviluppo di nuove tecnologie per lo sviluppo dell'economia e quindi si cerca di unire la tutela dell'ambiente con la crescita economica Naturalmente un terzo dei 1800 miliardi di euro di investimenti previsti dal piano per la Next Generation EU deve essere rivolto a questo settore che ci sta particolarmente a cuore Non dimentichiamo che l'Unione Europea anche nei decenni passati è stata pioniera nello sviluppo di tecnologie che fossero sempre meno impattanti sull'ambiente Vi invito con un esempio veramente pratico a mettervi dietro un'autovettura prodotta 30 anni fa e a capire come sono cambiati per esempio i motori grazie alle varie direttive Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5 che hanno diminuito tantissimo le emissioni ambientali Questo poi va esteso all'impatto degli edifici, del riscaldamento, delle emissioni nocive dell'industria e tantissime altre politiche che sono state messe in atto dall'Unione Europea e che saranno sempre più importanti nello sviluppo futuro La Commissione Europea, non dimentichiamo, ha una direzione generale specificamente dedicata a quella dell'ambiente che già da anni propone delle direttive per limitare l'impatto ambientale e il Parlamento Europeo è sempre stato estremamente attento nella sua legislazione a coniugare i temi della tutela dell'ambiente e della diminuzione delle emissioni con la crescita economica perché naturalmente anche questo è importante Quindi io aspiro che conferenze come quella odierna aumentino la sensibilità dei nostri cittadini che ricordo invitiamo sempre a partecipare, ad iscriversi alla piattaforma, sulla conferenza sul futuro dell'Europa perché saremmo veramente contenti di avere i loro suggerimenti e le loro idee per cambiare la legislazione europea e rendere l'Europa più vicina ai cittadini e più efficace nella sua azione e quindi penso che gli autorevoli relatori di oggi ci daranno il quadro dello stato dell'arte soprattutto nel campo oggi dello spazio pubblico e architettura sostenibile anche alla luce della legislazione europea Vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti buon lavoro Grazie, la ringrazio moltissimo dottor Spada e chiedo ora ad Angelita Campriani di portare il saluto dello Europe Direct Siena Prego Angelita Il microfono Buonasera a tutti Un saluto ai relatori, al dottor Spada che rappresenta le istituzioni europee per questo nostro webinar alla professoressa Moschetta, al professor Torino che è appunto nostro collega della Europe Direct e a tutti coloro che ci stanno seguendo perché credo siano stati dei feedback che abbiamo ricevuto degli appuntamenti molto interessanti che appunto hanno avuto un discreto successo e un buon feedback perciò sicuramente continueremo anche nel 2022 Io sono Angelita Campriani responsabile della Europe Direct che è all'interno dell'Università di Siena dal 2009 è una ricca esperienza che si è poi riversata sul territorio di Siena ma anche di Arezzo e di Grosseto e facciamo appunto attività di informazione, comunicazione e formazione sui temi dell'Unione Europea che poi è la mission, una delle mission più importanti delle Europe Direct In particolare diciamo prima ho salutato appunto l'Università Roma 3 perché diciamo dalla pandemia abbiamo iniziato a costruire degli eventi rivolti ai cittadini costruiti in sinergia con differenti Europe Direct differenti non solo perché ospitati da enti diversi dall'Università ma proprio anche dislocati sul territorio nazionale proprio perché in questi anni diciamo la formazione online l'informazione online e la possibilità di fare attività appunto informative e a distanza cioè già la distanza tra le Europe Direct non era poi così importante perché per comunicare i vari temi europei che appunto l'indole è diciamo l'obiettivo della della Europe Direct in particolare abbiamo scoperto diciamo scoperto abbiamo rafforzato una sinergia anche tra atenei perché a livello nazionale gli atenei che hanno deciso di ospitare della Europe Direct sono cinque l'Università di Siena l'Università Roma 3 Chieti Bari e l'Università di Palermo nel diciamo nel consorzio di Trapani perciò anche la Europe Direct Trapani questo diciamo è stato molto interessante perché chiaramente insieme siamo riusciti a costruire diciamo quello che è vero che normalmente formiamo i ragazzi o comunque facciamo ricerca all'interno del mondo accademico su temi europei ma questa volta è quello che le università parlano di terza missione era un diciamo un lavoro sinergico che stiamo facendo con un con il nostro con un destinatario che è il cittadino perciò una nuova forma di 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 parlare di temi europei di approfondire i temi europei ma questa volta parlando come terza minzione perciò con i cittadini e con la società civile che appunto ci ascolta e ci segue questo è stato importante anche perché chiaramente con gli Atenei riusciamo a sviluppare molte iniziative con ognuno con la nostra peculiarità le nostre ricerche le nostre iniziative io volevo salutare di nuovo la europe direct Roma 3 augurargli una buona il 22 di dicembre un un buon momento per l'inaugurazione per incontrare i cittadini e appunto continuare questa nostra mission anche come Atenei buon lavoro a tutti grazie grazie angelita per la collaborazione il nostro centro europe direct è una delle new entry nella famiglia dell'europe direct in italia quindi evidentemente siamo molto lieti di collaborare e di costruire iniziative insieme quindi grazie grazie per il tuo intervento per il tuo intervento oggi bene io ringrazio il dottor spada ringrazio angelita campriani fondamentale il supporto delle istituzioni del parlamento europeo della commissione europea e di tutti gli europe direct contribuiamo tutti ad uno stesso obiettivo quello di parlare con i cittadini e valorizzare le opportunità che l'unione europea offre a tutti noi cittadini benissimo dunque direi che possiamo entrare nel vivo ecco di questo quarto incontro di questo ciclo di webinar che dedicheremo al tema vivere il green spazi pubblici e architettura sostenibile prima di iniziare vorrei riportarvi i saluti del professore Andrea Farì come vedete dalla locandina il professor Farì docente di diritto ambientale presso il dipartimento di giurisprudenza dell'università Roma 3 avrebbe partecipato con molto piacere e moderato i lavori di quest'oggi purtroppo mi ha comunicato che ha avuto un imprevisto e quindi mi ha chiesto di scusarsi con tutti i relatori e con tutto il pubblico che ci sta seguendo con tanto affetto e attenzione nelle nostre attività e io confido senz'altro che ci sarà opportunità di collaborazione con il professor Andrea Farì è una persona di grandissima competenza e di grandissima disponibilità quindi assolutamente contiamo sul suo supporto come membro della squadra ecco del nostro centro Europe Direct bene io diciamo farò le sue veci quindi condurrò io e introdurrò io i relatori lasciando il loro spazio dunque spazi pubblici ed architettura sostenibile abbiamo scelto questo tema noi sappiamo come il piano d'azione della commissione europea che simbolicamente è intitolato Green Deal Europeo proprio voler imprimere un nuovo corso nella definizione delle politiche ambientali politiche ambientali che assumono le sfaccettature e le inclinazioni più varie lo abbiamo visto in questi webinar che hanno diciamo tracciato questo nostro primo percorso di comunicazione con i cittadini sostenibilità ambientale significa parlare di salute sostenibilità ambientale significa parlare di ritmi produttivi che abbiano un rispetto della natura e dei ritmi della natura significa parlare di energie rinnovabili di efficienza energetica di attività economiche ecosostenibili e significa pensare e progettare lo spazio che ci circonda in una rinnovata prospettiva che valorizzi una relazione bionifica fondamentale tra lo spazio l'ambiente in cui viviamo e l'individuo la salute dell'individuo e la salute della collettività in quanto tale quindi questa è l'idea credo che questo webinar che conclude questo ciclo dedicato ai pilastri del Green Europeo conclude almeno per quest'anno solare vada proprio a compiere un percorso circolare che abbiamo effettuato in queste quattro tappe e sono molto molto felice e ringrazio per la loro partecipazione collaborazione e la loro generosità comunicativa fatemelo dire perché questa è stata un'esperienza bellissima per me per conoscere tante persone tanti esperti tante persone che hanno elevatissima professionalità ma di una carica umana veramente molto bella quindi lasciatemelo dire in relazione a tutti i relatori che in questi quattro incontri ci hanno accompagnato e quindi io rivolgo il mio grandissimo ringraziamento ai relatori di quest'oggi al professor Giuseppe Barbiero docente di ecologia e biologia generale presso l'università della Valle d'Aosta all'architetto Anna Carulli presidente dell'istituto nazionale di bioarchitettura al dottor Marco Nieri che abbiamo già conosciuto nel nostro primo webinar bioricercatore ed esperto di ecodesign e salute dell'habitat ora chiederò a ciascuno di portare il proprio contributo attraverso le proprie prospettive e seguiremo tutti con grandissima curiosità e interesse quanto ci diranno in merito alle opportunità di questa nuova visione del rapporto tra spazio che ci circonda e salute individuale e collettiva quindi vi ringrazio molto seguiremo l'ordine alfabetico indicato in Locandina e quindi per primo lascio la parola al professor Giuseppe Barbiero che ci parlerà di progettazione biofila biophilic design prego ringrazio dottoressa Moschetta ringrazio anche tutta l'Europe Direct se posso iniziare la proiezione così ecco posso governarla io direttamente molto bene io sono un ricercatore come è stato detto di ecologia sono un biologo e negli ultimi sette anni ho cominciato ad occuparmi di progettazione biofila biofili design un po' come uno spin off della mia ricerca principale che era invece la verifica sperimentale della ipotesi della biofilia in questo intervento di presentazione presenterò diciamo a grandi linee quelle che sono diciamo gli elementi che permettono di proporre questo nuovo modo di progettare gli spazi artificiali che siano in armonia con il mondo della natura la mia università il laboratorio di ecologia affettiva della mia università ha sviluppato alcune di queste progettazioni che in questa situazione in queste condizioni li progetterò intanto però forse la cosa migliore è cominciare con una definizione di biofilia cioè biofilia intendiamo una parola coniata negli anni sessanta che diciamo mette insieme l'amore filia per la vita bio che può essere intesa in due modi sia l'amore per la vita nel senso della comunità degli esseri viventi tutti gli organismi viventi appartengono a una comunità biologica e la biofilia potrebbe essere l'amore per queste comunità oppure può essere più estesa cioè l'amore intesa come amore per la natura cioè dove la vita è intesa come ecosistema quindi presente della comunità biologica e dell'ambiente quindi non vivente che ne fa da matrice perché essa prosperi qualunque sia l'approccio sia l'amore per la vita sia per l'amore per la natura in ogni caso la biofilia ha una matrice evoluzionistica molto importante cioè noi siamo ormai giunti alla conclusione che si tratti di un tratto della personalità umana che si è sviluppato fin dagli albori della nostra umanità nel corso della nostra storia evolutiva perché aveva un obiettivo che era quello di ricercare di aiutarci a ricercare rifugi sicuri e risorse abbondanti e quelle che oggi noi consideriamo fondamentalmente delle preferenze di carattere estetico per certi ambienti in realtà se riguardiamo con l'ottica di una popolazione umana che riusciva ad entrare in relazione con il proprio ambiente ecco vediamo come queste due cose siano strettamente correlate il primo a parlare di biofilia è stato Eric Fromm un grandissimo psicoanalista del secolo scorso secondo il quale la biofilia è la tendenza psichica a conservare la vita e a combattere la morte la cosa molto importante è che Fromm già osservava che è una potenzialità primaria intrinseca alla biologia umana cioè è presente in tutti gli esseri umani ha solo bisogno di essere stimolata di avere un contorno di ambiente che la sostenga a fianco di questa definizione di Eric Fromm che rimane fondamentale centrale c'è quella di un biologo Edward Osborne Wilson per il quale che ci offre una prospettiva della biofilia da un punto di vista anche filogenetico quindi la biofilia secondo Wilson è l'innata tendenza a concentrare la nostra attenzione sulle forme di vita e su tutto ciò che vi ricorda e in alcune circostanze ad affidarsi emotivamente ecco questo è l'aspetto secondo me molto importante perché ci permette di vedere come la biofilia in realtà sia un adattamento evoluzionistico che ha una matrice filogenetica ma dall'altra ha bisogno di uno stimolo è innata ma ha bisogno di uno stimolo per svilupparsi sotto un profilo ontogenetico ecco questo è un po' grandi linee della biofilia che ci permette di entrare nel tema importante che è la progettazione biofila la progettazione biofila è una diciamo una volta che abbiamo capito come funziona la biofilia la sua importanza perché ci permette non solo il contatto con la natura ma ci permette anche due effetti psichici molto importanti il contatto con la natura tende a ridurre il nostro stato di stress e a migliorare le nostre prestazioni cognitive questi sono due dati che ormai derivano da studi sedimentati negli ultimi 30 anni sia dal porto pensando alla stress reduction theory di Roger Urlich o la tension restoration theory dei coniugi Kaplan ecco questi ambienti diciamo hanno permesso di entrare nel merito di quella che potrebbe essere una volta che abbiamo capito come funziona la biofilia quali sono gli ambienti che possono stimolarla come dicevo l'ipotesi della biofilia è stata formalizzata nel 1993 da Stephen Kellert e Wilson Edward Wolfson Wilson in un testo fondamentale della biofilia ipotesi che a distanza di anni rimane come un punto di riferimento fondamentale Kellert poi successivamente ha dei due ha sviluppato di più l'aspetto degli ambienti artificiali con Building for Life nel 2006 e poi ancora con il biofilia design del 2008 le idee le tesi le ipotesi di di Kellert sono poi state sviluppate dalla società da un società che è fatta consulenza da architetti la Terra con i famosi fattori scippata nel biofilia design che hanno sistematizzato diciamo l'idea il concetto l'immagine che noi abbiamo della della progettazione biofile il originariamente i pattern erano molto più numerosi ma in Terra in Bright Green è riuscita in qualche modo a ridurne a 14 fondamentali che permettono di dare diciamo una checklist all'architetto al progettista per creare un ambiente che sia più possibile biofile questi 14 pattern 7 riguardano la presenza di natura natura nello spazio che riguardano la connessione visiva con la natura la connessione non visiva con la natura gli stimoli sensoriali non ritmici il flusso di aria e la temperatura di un certo ambiente la presenza di acqua in quell'ambiente la luce e infine la connessione con i sistemi naturali poi ci sono tre pattern che riguardano gli analoghi naturali le forme e i modelli biomorfici la connessione materiale cioè i tipi di materiali che utilizziamo la complessità e l'ordine con cui vengono organizzati e infine quattro che riguardano la natura dello spazio cioè il tipo di spazio che viene utilizzato nel Bifuric Design la prospetto il rifugio il mistero e la situazione di rischio e periglio ecco detto questo è chiaro che questa progettazione una volta che è stata definita in questi termini molto più operativi pratici da Therapy in Bright Green che non a caso sono architetti in pochi anni la Bifuric Design è entrato a far parte di sistemi di certificazione edilizia avanzati come Living Building Challenge nel 2000 e questo nel 2016 e le Well Building Standard anch'esso nel 2016 sulla base di questa esperienza che noi abbiamo fatto come diciamo gruppo di ricerca che si occupava della verifica sperimentale della biofilia aprendoci anche a questa prospettiva della progettazione biofila pur non essendo noi dei progettisti abbiamo contribuito a un progetto progetto Biosfera Biosfera Project che andava a realizzare che realizza dei moduli abitativi ad alta efficienza energetica nella quale progressivamente abbiamo introdotto elementi di biofili design sono moduli che sostanzialmente dei prototipi che servono che una volta realizzati possono essere spostati e diciamo integrati in determinati ambienti e poi noi studiamo praticamente le reazioni delle persone che abitano questi moduli abitativi il primo che abbiamo messo a punto è questo modulo qui che vedete ha anche una struttura che può essere facilmente spostabile con un bilico con un mezzo a ruote è Biosfera 2.0 il nostro obiettivo in Biosfera 2.0 era quello di verificare che certi accorgimenti di biofield design permettevano la riduzione dello stress questo era il punto fondamentale se non riuscivamo a osservare questo tipo di cose era evidentemente che la verifica sperimentale delle progettazioni biofili non avrebbe avuto successo in realtà abbiamo avuto un buon risultato che poi ci ha permesso di mettere al nostro punto l'indicatore di qualità biofila sulla quale abbiamo costruito la nostra esperienza che ci permette di prevedere gli effetti del biofield design adottato in ambienti piuttosto che in altri la fase successiva l'esperienza successiva di Biosfera 3.0 è stata Equilibrium dove abbiamo integrato all'interno della struttura sempre come dicevo ad alta efficienza energetica questa Biosfera 3.0 per dare un'idea produce otto volte più energia di quella che consuma quindi è un sistema di altissima efficienza resta un prototipo ma comunque dà un'idea di quanto si possa realizzare non più l'obiettivo è net zero energy cioè l'obiettivo è un edificio che non consuma energia ma addirittura possiamo pensarlo in positivo cioè l'edificio può produrre energia ecco questi aspetti secondo me sono molto interessanti perché se integrano il by field design possiamo avere anche degli aspetti di sostenibilità personale qui vedete per esempio la finestra laterale che permette un contatto visivo con la natura i materiali che abbiamo utilizzato il legno eccetera o altre queste altre soluzioni sempre sia per l'abitazione sia per l'ufficio in varie soluzioni diverse per permettere sempre a chi lo abita un continuo diciamo stimolo per la propria per sostenere la propria la propria biofilia settembre scorso abbiamo inaugurato la versione 4.0 di Biosfera sempre più avanzata anche dal punto di vista del nostro impegno come by field design dove abbiamo cercato non solo di introdurre il by field design ma anche di regolarizzarlo utilizzando un'altissima efficienza di domotica con la cronobiologia con i ritmi biologici circadiani circunstagionali che ha l'essere umano ecco tutto questo per dire che cosa per arrivare alla queste sono delle immagini di Biosfera 4.0 ecco per arrivare a che cosa alla prima nostra esperienza di prima scuola biofile in Italia cioè abbiamo preso un non solo fatto una sperimentazione diciamo in questo caso super accessorale ma abbiamo preso un edificio così com'era un edificio degli anni 60 e provato a riqualificarlo secondo i principi della progettazione biofila l'edificio era un edificio diciamo anche abbastanza complicato dal punto di vista energetico perché appunto negli anni 60 non ci preoccupavamo molto di come di quanto fossero efficienti dal punto di vista energetico era la scuola primaria di Gressonay la Trinité in Valle d'Aosta Gressonay la Trinité è l'ultimo comune della Valle dell'Is dopo Gressonay la Trinité c'è solo più il Monterosa quindi è un posto di estrema bellezza nella quale la progettazione biofila può essere integrata anche questo è un altro obiettivo con l'ambiente naturale l'ambiente alpino di alta montagna che caratterizza questo paese l'idea fondamentale era semplice cioè volevamo offrire ai bambini l'opportunità sapevamo che quando i bambini stanno all'aperto in outdoor sono più efficienti recuperano più facilmente dalla fatica mentale e volevamo offrire ai bambini proprio un ambiente diciamo come questo ecco dove la fatica mentale fosse diciamo così più facilmente recuperabile ecco questa è una delle aule scolastiche che usevamo quando siamo all'aperto ma anche quando siccome l'attività scolastica può essere fatta solo in parte all'aperto in parte deve essere comunque compresa all'interno abbiamo riprogettato l'aula interna in maniera tale le aule interne in maniera tale ecco questa è la la mappa della scuola con due aule e un'aula di molti servizi che loro usavano come prevalentemente come aula mensa in questa progettazione queste come vedete le aule prima dell'intervento erano fondamentalmente le aule comunissime che possiamo trovare quelle che noi abbiamo chiamato aule convenzionali quelle che noi troviamo in qualunque altra scuola e queste invece sono le realizzazioni che abbiamo fatto dopo l'intervento questo è l'aula grande questo è con area anche di facevano questi bambini fanno anche attività di silenzio attivo quindi di esercizi e giochi di mindfulness e questa invece è l'aula piccola con differenti progettazioni anche loro usano questo tipo di cose questa invece è l'aula che abbiamo chiamato rigenerativa dove i bambini fanno mensa ma fanno anche attività di ricreazione ecco chiudo con il mio intervento presentando brevemente alcuni di questi risultati di questa osservazione sperimentale non si tratta ovviamente di veri esperimenti perché i bambini in questo caso erano sono bambini a cui semplicemente offrivamo delle opportunità i bambini erano liberi di determinare e nello stesso tempo osservavamo quali erano le loro reazioni qui riassunto in questo grafico le quattro condizioni quella l'aula convenzionale BD l'aula biofili designed e la BD più BQI è quella è l'aula rigenerativa quella multifunzione dove l'abbiamo introdotto anche il bifili quality index e la O e l'outdoor cioè come stavano a fuori se voi guardate gli histogrammi rosa vedete che i diagrammi vanno da 0 a 4 0 non mi piaceva per niente è un diagramma di preferenza e invece il 4 è massimo di preferenza come vedete l'andamento è abbastanza ovvio i bambini avevano preferivano certamente di stare all'aperto quindi il risultato miglio dell'outdoor ma se stavano al chiuso evidentemente era più preferita per loro le aule biofield design ma cosa più interessante questo è un aspetto soggettivo l'aspetto invece oggettivo sono le scale di percezione di rigenerazione cioè la capacità di rigenerazione che questi ambienti avevano e come vedete va a ripasso alla preferenza dei bambini cioè gli ambienti outdoor sono quelli che rigenerano più facilmente i bambini dalla fatica mentale gli ambienti biofield design sono superiori alla convenzionale e l'obiettivo sarebbe poterli arrivare ad ambienti indoor che sono paragonabili a quelli outdoor questo è il nostro obiettivo ultima diapositiva il dato più interessante dal mio punto di vista come ricercatore è stato quello invece del cambiamento della percezione del sentimento di affiliazione del sentimento di legame con la natura che i bambini hanno avuto man mano che noi offrivamo un contatto con la natura cioè più il contatto con la natura è la maggiore più i bambini cambiano la loro percezione c'è voluto tempo come vedete qui la sperimentazione la situazione sperimentale partono dall'ottunno del 2016 e si chiudono nella prima regola del 2019 quindi coprono tre anni scolastici è uno dei follow up più lunghi su questo argomento che sono stati eseguiti in tutto il mondo quindi noi cosa vediamo che vediamo che per lungo tempo i bambini non cambiano il loro sentimento di affiliazione cioè dall'ottunno del 2016 all'ottunno del 2017 praticamente non abbiamo visto variazioni e nonostante noi offrissimo questa opportunità questo perché perché probabilmente anche i bambini ingressonari stavano molto tempo al chiuso anche se era un ambiente bellissimo passavano 6-7 ore a scuola nel chiuso di un'aula convenzionale le ore libere le passavano a casa oppure a fare catechismo palestra altre cose comunque ambienti chiusi il loro contatto con la natura pur avendola sotto mano non la sviluppano man mano che noi abbiamo sviluppato un progetto che integrava questa cosa come vedete la cambiava clamorosamente addirittura raddoppiava il loro sentimento di affiliazione vi ringrazio per l'attenzione se volete poi riassunto in questo articolo che è uscito ancora un paio di mesi fa nel quale development sustainability che presenta proprio questo tipo di progetto vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento grazie 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 professor Barbiero veramente molto molto interessante ascoltare quante prospettive possano stanno diventando realtà sono già realtà perché quello che lei descriveva è il migliore dei mondi possibili o quello che noi ci immaginiamo nei sogni di genitori in relazione ai nostri figli o anche in relazione al nostro quotidiano parlava appunto della possibilità di raggiungere degli obiettivi di efficienza energetica anche al di là di quanto ci aspettiamo degli obiettivi posti quindi come dire si può e quindi grazie per averci dato questa illustrazione questa panoramica sulle bellissime prospettive perché è anche un approccio attivo e positivo rispetto a quello che l'approccio scientifico perché lei ha riportato di studi scientifici una prospettiva scientifica che ci apre alle prospettive di sostenibilità ambientale salute e direi anche educazione sono tutti aspetti che tra l'altro rilevano e sono di grande interesse nelle politiche dell'Unione quindi vedete quante declinazioni il concetto di sostenibilità ambientale attua e trova già attuazione in tante declinazioni della scienza quindi grazie grazie veramente professor Barbiero e veniamo ora a presentare l'architetto Anna Carulli presidente dell'Istituto Nazionale di Bioarchitettura che ci presenterà la sua relazione su bioarchitettura ed ecologia nel progetto grazie a lei la parola mi sentite adesso? sì è d'obbligo chiaramente una presentazione su quello che ha rappresentato in Italia lo sviluppo e la diffusione della bioarchitettura che sono avvenuti ed avvengono tuttora grazie al ruolo cruciale e rivestito dall'Istituto in questi ormai 31 anni quest'anno abbiamo fatto 31 anni dalla nostra fondazione e l'Istituto ha rappresentato il principale e il più autorevole punto di riferimento italiano per il mondo nella bioarchitettura proprio perché bioarchitettura è un ricordo un marchio registrato e quindi anche come terminologia bio prima di architettura è stato come dire un segnale importante proprio nel segnalare quelle che per noi erano i fattori relativi all'uomo e quindi alle relazioni che l'uomo aveva con il proprio ambiente quindi ha svolto ruolo determinante per la sensibilizzazione e l'informazione della società e la formazione degli operatori sui temi dell'abitare sano nella riqualificazione del territorio e nella riconversione ecologica nel settore delle costruzioni e all'interno dell'istituto ha vantato sin dall'inizio una la iscrizione di professionisti iscritti all'albo in tutte le varie discipline per cui abbiamo sempre avuto un confronto multidisciplinare e lavorato sempre in ha costituito quindi un punto di incontro organico di riferimento e di raccordo nazionale ed internazionale per il mondo intellettuale e produttivo nei vari settori quali l'edilizia l'urbanistica la geologia la biologia ma anche quello della gestione delle risorse ambientali del territorio e quindi l'incentivazione dello sviluppo sostenibile lo abbiamo lo vediamo adesso in tutte le azioni appunto dell'Unione Europea l'abbiamo già citato prima e quindi come dire nei vari settori siamo riusciti anche nel rinnovamento e la riconversione negli ultimi 30 anni in un approccio innovativo fondando su una visione integrata quelle appunto che dicevo erano intanto una visione olistica che 30 anni fa proprio abbiamo coniato nella visione di insieme più forte che mai nel partire affrontando le nuove sfide alla base di quelle che erano le attuali problematiche legate proprio come abbiamo visto negli ultimi anni alla trasformazione del territorio e a qualsiasi livello diciamo sia avvenuta nelle varie ricatute territoriali i fattori che intanto hanno determinato secondo noi la struttura e l'evoluzione di un paesaggio sono state molteplici hanno compreso vari eventi naturali fra cui come sappiamo i cambiamenti climatici i processi geomorfologici e pedogenetici la colonizzazione da parte di specie animali e vegetali quindi molti fenomeni legati all'interno antropico che hanno cambiato fortemente l'uso del suolo e quindi da qui una frammentazione anche nella visione urbanizzata delle megalopoli e delle metropoli e il riferimento anche poi all'inquinamento e al disturbo diciamo che diciamo abbiamo avuto poco fa il professore citava l'inquinamento indoor appunto che per noi è stato un riferimento e un approfondimento nel settore proprio delle nostre ricerche gli interventi poi invece di rigenerazione urbana e di recupero edilizio hanno rappresentato un'occasione per l'istituto e per i suoi esperti proprio di mettere a frutto i principi di trasformazione sostenibile all'interno di un processo come elemento centrale di riferito al benessere dell'uomo e quindi la necessità di orientare le scelte pubbliche e private sono stati anche temi da noi affrontati verso lo sviluppo sostenibile che ci richiedeva degli ingredicatori diversi parlando e cominciando a partecipare molti anni orsono nei tavoli tecnici della Green Economy nei confronti con le altre istituzioni lanciando quello che poi dalla economia circolare ci ha portato ai principi dell'economia lineare all'economia circolare quindi da quelle dinamiche impatti economici sociali e ambientali che secondo noi sono dei parametri ormai cambiati ormai rinnovati e valutati secondo i fenomeni di orientamento che la nostra capacità di interfacciarsi e le nostre azioni hanno condotto quindi riteniamo che gli indicatori fondamentali sono diventati proprio l'uomo con le sue relazioni sul territorio nella società con l'ambiente e quindi il valore economico attualmente sono proprio quelle che sono la vivibilità del cittadino come utente finale quindi intanto la crisi che stiamo vivendo ha evidenziato la necessità di un nuovo modello di sviluppo quindi la società dei consumi come l'abbiamo conosciuta finora abbiamo già visto e come ci ha descritto anche il ministero e il ministro cingolani nella transizione ecologica sono destinati a cambiare se non addirittura scomparire quindi diventa forte la correlazione tra ambiente ed economia che cambia proprio nella gestione e nella comparazione e nella interpretazione anche nella gestione dei processi territoriali edilizi ma anche nella governanza del territorio a carattere paesaggistico urbano in tutte quelle che possono essere le parti di vincolo strettamente ambientale di tutela ambientale quali zone importanti da tutelare come le zone ZPS SIC per esempio che chiaramente sono un patrimonio importantissimo del nostro territorio un patrimonio fantastico del nostro territorio nazionale come vediamo in questa slide il concetto proprio di cui vi parlavo prima era la parola bio prima di architettura che era considerata era proprio un'indicazione di architettura per la vita che a nostro avviso e quindi dal nostro fondatore Ugo Sasso negli anni 80 e 90 volevano indicare proprio la necessità di architettura per la vita quindi di attenzionare nei vari processi innescando che avevamo innescato poi nel processo edilizio in quegli anni dal boom economico degli anni 60 in poi una necessità di frenare quelle che erano il tipo di produzione di materiali a carattere chimico e a carattere tecnologico che ricadeva sulla natura e proprio sull'uomo questo fattore chiaramente molto forte ha portato a una visione della sostenibilità in chiave ridimensionandola in uno sviluppo e gestione diverso rispetto al passato quindi qui il cambio di paradigma da qui anche la necessità di vedere l'edificio in maniera diversa abbiamo cominciato a parlare di edificio sostenibile efficiente energia zero e quindi qui i nostri due principi simboleggiati appunto dai fondamenti dell'istituto che sono la biocompatibilità e l'ecosostenibilità che sono i due principi di base che l'istituto 30 anni fa ha coniato e messo diciamo a regime su quelle che sono state sempre le applicazioni fondamentali e le abbiamo applicati sia in cantiere nei processi quindi nell'applicazione dei processi dei protocolli energetico ambientali quindi a volte in maniera volontaristica poiché sappiamo bene che i marchi di certificazione energetica ambientale in alcune regioni sono anche di natura volontaria e quindi attraverso questa sperimentazione negli anni abbiamo potuto attraverso i nostri esperti verificare la sinergia su questi due fattori che si riferiscono alle varie normative come il sistema edificio quindi riferimento normativo man mano appunto che abbiamo affrontato negli anni dalla pura filosofia alla quindi allo studio dei fenomeni sociali e quindi virtuosi in questo caso siamo passati proprio all'applicazione delle varie normative quindi posso citare per quanto riguarda l'inquinamento indori innanzitutto ci è venuto incontro anche nell'osservazione nei luoghi confinati la legge sulla sicurezza testo unico o la legge 81 dell'80 dove tutela chiede un monitoraggio nei luoghi di lavoro dell'aria dell'acquatilare dell'aria quindi uno studio attento sull'inquinamento indora addirittura in luoghi confinati in alcune zone a molte aziende secondo la normativa del testo unico hanno l'obbligo di monitorare l'aria prima di consegnare appunto alla ditta appaltante il luogo di lavoro quindi come vedete le sperimentazioni nei vari settori sono state tante da poter acquisire e a poter poi verificare sul campo con delle misurazioni digitali l'altra sicuramente è stata la 192 sul risparmio energetico che negli anni dal 2005 in poi ha portato appunto all'applicazione da parte dell'istituto di sperimentazione di un marchio di certificazione ambientale dove siamo riusciti così secondo il protocollo ITACA a approfondire alcuni temi fra cui anche l'analisi del sito che per l'accettazione dell'istanza per l'istituto e l'applicazione del marchio diventa fondamentale e primaria quindi come vedete alla fine arrivando ai giorni nostri ci siamo proprio visti come dire riconosciuti nella divulgazione e nella visione globale olistica di quella che è stata la nostra filosofia nel decreto dell'11 ottobre 2017 sulla obbligatorietà dei criteri ambientali minimi che è il decreto più importante a nostro avviso dove segna la soglia di qualità nell'applicazione nel processo edilizio per gli appalti pubblici e questo mi faccio riferimento soprattutto anche all'ultimo oltre che al decreto chiaramente che è diventato subito cogente e di cui l'Italia sicuramente è operatore virtuoso poiché lo ha subito applicato in relazione al codice d'appalti ma proprio il 2 dicembre il ministro Cingolani ha stretto questo protocollo importante con ANAC con il presidente Busia dove hanno chiaramente hanno giustamente dopo le esperienze avute dal 2017 fino ad ora registrato appunto l'applicazione dei CAM sia nelle pubbliche amministrazioni che nel privato e hanno delineato quello che è un monitoraggio puntuale importante dei lavori dei CAM applicati appunto nei lavori pubblici questo è un passaggio a nostro avviso fondamentale perché attraverso questo decreto nelle 17 categorie ormai diventate 18 poiché con il decreto dell'aprile scorso 2020 abbiamo l'ingresso del CAM verde che ci permette di progettare anche nella parte diciamo di bioclimatica e di attenzione al paesaggio verso appunto il verde pubblico e comunque zone agricole di poter interagire applicare quegli strumenti e piani operativi che sono a livello appunto come vi dicevo di governance territoriale e quindi io direi una frase importante nel focalizzarci proprio in questo percorso che in maniera trasversale sullo sviluppo sostenibile è stato intrapreso sia a livello europeo che poi a livello nazionale che si va ad intrecciare fra il decreto dei criteri minimi ambientali il PAN GPP nazionale e poi l'agenda 2030 e quindi posso dire che non c'è economia senza ecologia è un legame scendibile che è il presupposto per ridisegnare lo sviluppo anche alla luce quindi degli obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile che ci appunto si è stato segnalato dalle Nazioni Unite i veri fondamenti quindi della società a parte il capitale sociale è il capitale umano a nostro avviso è il capitale naturale proprio nel rinnovamento della tecnologia in grado poi di porre dei miglioramenti promuovendo un nuovo modello di produzione e di consumo che si traduca in un'economia veramente circolare se da un lato possiamo considerare che esistono delle situazioni di grande respiro che non possono essere eluse a livello prioritario che non possono essere rimandate dall'altra abbiamo proprio la salvaguardia ambientale che riferita alla qualità degli ambienti edilizzi urbani da qui dipendono tutti i fattori di trasformazione riferiti all'attività diffusa sia dei professionisti sia di tutti quelli di attori che sono fanno parte del processo edilizio è importante qui una breve carrellata su quelli che sono i materiali in genere applicati riferiti sempre un po' alla tecnologia e alla quelle che sono le ultime diciamo scoperte innovative ma sicuramente il riferimento va fatto a quella che è la ricaduta sia nei luoghi interni nei luoghi così definiti dal Ministero della Salute luoghi confinati e rispetto all'esterno del quindi parliamo di inquinamento indoor e outdoor breve carellata di quelli che sono delle progettazioni riferite quindi nella scelta dei materiali poi c'è la differenza quindi materiali certificati che nell'applicazione la messa in opera e qui rientriamo un po' anche un po' tocchiamo i cam riferiti a 110 che in effetti però nella loro applicazione solo nel risparmio energetico non ci ha soddisfatti come istituto perché ritenevamo che nell'applicazione primaria del decreto chiamandolo ecobonus quindi nell'applicazione delle 17 categorie avrebbe un po' fatto la differenza dando una favolosa opportunità a tutti i professionisti e a tutte le pubbliche amministrazioni italiane per poter applicare e quindi favorire l'utente finale nel rinnovamento riuso recupero del proprio edificio o delle proprie proprietà quindi questa è stata la parte critica da parte dell'istituto io credo di aver finito il tempo perché è comparsa la nostra dottoressa Moschetta che ringrazio e credo di aver sintetizzato in pochi minuti un po' diciamo uno scorcio su quelle che sono state le operazioni dell'istituto in questi 31 anni grazie grazie a titetto Carulli veramente ci ha rappresentato in maniera molto chiara ed efficace l'attività del vostro istituto e mi piace proprio richiamare alcune espressioni che le ha utilizzate non c'è economia senza ecologia e visione olistica credo che questo approccio sia veramente il filo conduttore e la prospettiva delle politiche del futuro in ogni settore e credo ma lo diceva lei prima quando lei ha citato poco fa molti non attenzionano che la sostenibilità prima di essere ambientale necessariamente deve essere nella classica denominazione però sui fatti sulle azioni economiche e sociale per l'uomo certo assolutamente e poi altro aspetto della della sua relazione l'importanza delle scelte pubbliche e private poi magari ne parleremo in conclusione con grande piacere la ringrazio moltissimo grazie a voi e dunque siamo al dottor Marco Nieri che chiedo di ecco qui dottor Marco Nieri non lo vedo ci siamo ecco eccoci qui grazie dottor Marco Nieri che ecco qui ci accompagnerà con una nuova relazione già partecipato al primo webinar di questo ciclo di incontri ora siamo veramente in attesa di ascoltare la sua relazione verde pubblico rigenerante prego molto volentieri mi ricollego certamente sia al primo intervento che abbiamo fatto il 2 di dicembre dove si parlava degli effetti del verde sulla nostra salute in parte a quello che ha detto precedentemente il professor Barbiero noi abbiamo una innata neurologica connessione con la natura che ciascuno poi sviluppa un po' a suo modo che viene chiamata biofilia ma un ambiente naturale biofilico come si presenta come potrebbe essere ecco secondo questa teoria che è poi una teoria evoluzionistica noi abbiamo delle preferenze preferenze di tipo ambientale ci piace stare per esempio su un rilievo osservare un corso d'acqua o uno specchio d'acqua un pochino più in basso avere davanti a noi dei prati vedere alberi e cespugli un po' sparsi che ci permettano di avere una certa visibilità e controllo della situazione e essere probabilmente un po' riparati alle spalle ecco questo è un po' l'ambiente quasi il rifugio dell'antico uomo che precedeva forse l'uomo sapiens sapiens bene questo tipo di ambientazione è un po' entrata anche nel nostro immaginario il giardino dell'Eden è sostanzialmente il luogo nel quale sono riconducibili tutti gli elementi che fanno parte della nostra innata preferenza verso la natura animali scorci paesaggistici frutta vegetali ecco tutti in questa grande simbiosi e questo tripudio diciamo così della vita ma diciamo così oggi la situazione non è esattamente come questa ci ritroviamo degli spazi verdi qui è una veduta di Roma come vedete è una veduta aerea questi spazi verdi spesso non hanno qualità qualità cosa intendo per qualità capacità regenerative per esempio regenerative per le fatiche mentali per le fatiche fisiche per aspetti anche forse più sottili legati alla nostra aspettativa profonda che abbiamo quando andiamo verso la natura una natura che spesso è degradata e come nel caso appunto delle foreste urbane quindi questi spazi verdi tutti connessi gli uni con gli altri ma anche magari a distanza di chilometri o centinaia di metri non abbiamo di frequente questo tipo di relazione diretta cioè non riusciamo a connetterci spazialmente per poter usufruire di un verde che come dire si espanda su tutta la città e ci permette di stare sempre un po' in contatto con la natura questo ovviamente a seconda delle varie città si manifesta in maniera maggiore o minore ci sono città come Portland in Oregon Stati Uniti dove questa foresta urbana è molto accentuata c'è una connessione verde un po' ovunque viagli alberati parchi giardini una copertura verde eccezionale e ovviamente politiche di tipo ecologico che salvaguardano questo verde e hanno fatto entrare i cittadini stessi nella partecipazione ecco di questa gestione del verde stesso una cosa che ovviamente sarebbe auspicabile anche qui ma lo vedremo dopo anche gli stessi viagli alberati di suo prima svolgono una funzione fondamentale nel verde pubblico perché consentono di offrirci benefici di tipo ambientale sui quali magari non mi dilungo perché sono abbastanza noti ma anche semplicemente visivi pensiamo proprio a quello che è l'effetto rigenerativo o rigenerante dell'osservare la natura secondo le teorie di cui abbiamo parlato settimane fa la teoria della tension restoration theory per esempio gran parte del verde pubblico può essere anche considerato un verde usufruibile per orti urbani si stanno sviluppando sempre di più questi spazi nelle città c'è una forte esigenza di questi ambienti verdi che svolgono una funzione sociale enorme se pensiamo appunto agli anziani in particolar modo che possono trovare in questi spazi un senso anche minimo nelle loro giornate e nella loro attività quotidiana ma svolgono comunque anche una funzione estetica oltre che essere estremamente utili per l'alimentazione delle persone in città che ritrovano così una sorta di contatto con la natura molto vicino molto prossimo senza dover spostarsi di tanto fuori ci sono città come per esempio Fredericksburg e in Danimarca che hanno adottato già delle politiche molto interessanti per quanto riguarda la la visione e la la prossimità col verde per esempio in questa città la politica attuale è quella di far vedere a tutti i cittadini almeno un albero dalla propria finestra questa è una cosa molto interessante perché vuol dire che si identifica nell'albero che è un po' l'archetipo del mondo naturale un elemento verde in grado già di suggerire un senso di pace e di serenità ma oltretutto lo stesso albero svolge delle funzioni ambientali notevoli come abbiamo in parte accennato e ci crea il senso di continuità questa visione una continuità in tutto il verde cittadino che ci fa un po' diminuire il carico stressogeno della città stessa un docente dell'università della British Columbia a Vancouver facendo tesoro di questa esperienza per esempio ma anche di altri studi molto interessanti che riguardano l'influenza del verde sulla salute e la nostra capacità di poter essere rigenerati dagli spazi verdi ha cognato questa regola del 3-30-300 che in breve ci dice che tutti dovrebbero essere in grado di vedere almeno tre alberi da casa loro ogni quartiere dovrebbe avere almeno il 30% di copertura arborea quindi vedete sempre alberi e nessuno dovrebbe vivere più di 300 metri da un parco uno spazio verde abbiamo visto una settimana fa che per esempio alcuni studi si sono interessati di comprendere quanto la distanza da uno spazio verde possa essere cruciale per le persone per usufruire di questo spazio verde e se la distanza supera i 300 metri per esempio già le persone faticano a raggiungere lo spazio quindi questa è già una regola che pone come dire sulla base di studi molto precisi diverse ricerche svolte un po' in tutto il mondo pone un po' le mani avanti su quello che potrebbe essere un criterio progettuale per i nostri spazi verdi futuri nelle città e c'è un concetto questo concetto del Juan Herz che è anche riconosciuto ufficialmente dal Ministero della Salute per esempio che considera proprio una circolarità una relazione circolare tra tutti gli esseri viventi una necessità di contatto di relazione e di vita di potenzialità di vita che avviene proprio tra tutti gli esseri viventi cioè gli esseri animali vegetali gli esseri umani sono tutti collegati il benessere degli uni è determinante per il benessere degli altri e credo che sia intuitivo perché un po' non possiamo come dire cogliere un fiore come si diceva in Brasile senza creare un effetto magari ambientale da un'altra parte del mondo questo era un vecchio detto ma c'è di più c'è di più perché noi siamo abbiamo bisogno di natura appunto il concetto della biofilia ce lo dice chiaramente e abbiamo bisogno di percepire la presenza di altri esseri viventi e di stare in un ambiente che sia ricco di queste relazioni quindi l'ambiente ricco rigenerante l'ambiente verde rigenerante è un ambiente che deve essere sufficientemente attraente capace di stimolarci a tutti i livelli di coinvolgerci a livello visivo emozionale cognitivo fisico e sociale cioè quindi di poter favorire le relazioni umane e questo anche in funzione delle varie esigenze personali non siamo tutti uguali abbiamo bisogno di cose diverse qui abbiamo una diapositiva che purtroppo non riuscirò a scomporre nelle varie righe per un problema tecnico per cui mi scuso se c'è tanto scritto ma procedendo dall'alto verso il basso volevo semplicemente mostrare alcuni criteri progettuali per un buon verde pubblico rigenerante cioè ci sono delle considerazioni da fare non si può creare uno spazio verde semplicemente mettendo su qualche albero anche se autottono o comunque ben noto nella tradizione del luogo e mettere dell'erba cioè delle panchine è un percorso bisogna secondo me tenere conto ormai che con gli studi ci hanno abituato a comprendere negli ultimi 40 anni che possiamo essere ancora più precise ancora più efficaci nel pensare agli spazi verdi pubblici ad esempio per esempio il verde il paesaggio sono chiamiamole così scenografie viventi interattive vive interattive non passive sono cariche di funzioni di significati di contenuti per noi cioè quando guardiamo il paesaggio noi riceviamo davvero dei messaggi da quello che guardiamo e questo quello che guardiamo deve essere capace di stimolare la nostra risposta emozionale cognitiva e fisiologica questo è un po' è un riferimento alla stress recovery theory di Ovech che è stata citata poco fa poi bisognerebbe creare e rendere fruibili i più significativi scorci paesaggistici del verde perché dobbiamo anche magari a volte lavorare su verde esistente ma essere in grado di valorizzare quello che per noi è più importante quello che ci dà la sensazione per esempio di trovarci altrove un po' come andare in vacanza e anche qui facciamo riferimento alla attention restoration theory e sempre a questa teoria ci riferiamo pensando di valorizzare spazi ampi e sufficientemente coerenti tra di loro che possono interessarci mantenere vivo il nostro interesse e permetterci questa sorta di esplorazione senza sforzo osservare il paesaggio attorno a noi esserne coinvolti trovare punti di riferimento che ci permettano di adagiare la nostra attenzione su questi elementi della natura e quindi trovare elementi piacevoli che ci attirino ricreare ambientazioni verdi o diciamo così strutturate anche con elementi di arredo che possono essere comunque coinvolgenti piacevoli per noi e che si permettano questa ampia esperienza rigenerante e infine sempre riferendoci a questa teoria l'ambiente deve supportare le nostre intenzioni e le nostre aspettative quindi non deve essere un ambiente che ci allontana perché noi non siamo in grado di per esempio di goderlo appieno o abbiamo dei limiti nel godere questo ambiente e dobbiamo riuscire in questo ambiente a abbandonare lo stress gli stati di ansia e delusione la noia ecco il fastidio poi questo ambiente deve essere in grado di supportare anche tutte le varie esigenze che hanno persone con differenti livelli di energie mentali qui ci rivolgiamo a un'altra teoria al visitor's mental power dove abbiamo detto due settimane fa appunto che la fruibilità degli spazi verdi dipende molto anche dalle nostre energie sia fisiche che mentali che ci permettono di essere più coinvolti per esempio a livello sociale con altre persone o di ricercare luoghi più appartati dove osservare il movimento la vita da una posizione più defilata ecco questa è un'altra cosa che dovremmo ottenere in considerazione poi dovremmo riuscire a consentire anche un accesso agli alberi cioè considerare gli alberi come elementi non solo decorativi ovviamente ma elementi vitali capaci di trasferire c'energia abbiamo parlato la volta scorsa di del bi-energetic landscape di campi elettromagnetici che si stanno studiando mai messi dagli alberi che possono influire sull'energia dei nostri organi ecco ma l'albero ha sempre avuto un'attrazione particolare per le persone anche non solo nelle culture come dire più legate alla terra o più indigene ma anche nella nostra società molto spesso ci sentiamo attirati dagli alberi bene questo senso di mistero nasconde anche davvero potenzialità enorme e poi dovremmo avere anche alcune sensibilità particolari cioè pensare il verde pubblico e rigenerante richiede come dire di calarci nei panni del fruitore quindi dobbiamo offrire sia la visione che la fruizione di differenti gradi di espressione della natura sia spontanea ma osservatica che anche quella più curata domestica cioè noi abbiamo bisogno di vedere il giardino ma abbiamo bisogno di vedere anche i cespugli l'ambiente selvatico il nido dell'uccellino così come la possibile etana del riccio dobbiamo cogliere quegli aspetti che ci fanno pensare di trovarci davvero in uno spazio naturale gli spazi blu gli spazi acquatici sono importantissimi sia per le attività che si svolgono sulle loro rive sia per il senso di pace di contemplazione che ci inducono sia per gli effetti di ionizzazione quando l'acqua è in movimento dobbiamo ridurre il rumore artificiale e accrescere suoni di natura introdurre materiali naturali ecco che qui ritorni anche al discorso della bioedilizia della bioarchitettura sia per un discorso ecologico ma anche per un discorso di coerenza sociale cioè non possiamo estragnarci dal fatto che se stiamo progettando un ambiente naturale potremmo usare per esempio che ne so materiali sintetici ecco non possiamo togliersi da questa atmosfera della natura dobbiamo restare coerenti in quello che facciamo e offrire le persone esperienze di coerenza quindi anche i materiali naturali per quello che riguarda percorsi panchine eccetera dovrebbero essere i più comuni i più utilizzati per questo tipo di spazio ovviamente dobbiamo curare accessibilità e inclusività criteri di progettazione multidisciplinari anche in collaborazione quando serve con personale sanitario o comunque personale che lavora in campi a contatto con persone deboli e svantaggiate introdurre bellezza questa è una cosa importante non dimenticarci il valore dell'arte che è fondamentale e sostenere il senso di comunità e il supporto sociale e beh diciamo una cosa importante e vado verso la conclusione è anche la partecipazione attiva dei cittadini qui vediamo uno dei dei messaggi del comitato di piazza vittorio partecipata proprio a Roma per il giardino di piazza vittorio appunto e questi messaggi diffusi tra la popolazione dalla popolazione stessa sono estremamente coinvolgenti e ci parlano di la volontà che hanno i cittadini di entrare anche nella gestione di questi spazi o anche nella progettazione ricordo e sempre mi riferisco a Roma come anche il degrado e il vandalismo siano effetti che derivano dall'avere progettato male gli spazi o non averli progettati affatto qui siamo in un parco delle Sabine a pochi chilometri da Roma diciamo dove il vandalismo avviene di per sé per questo degrado anche del paesaggio verde non si può pensare di creare spazi verdi così privi di umanità privi di contenuto senza poi ritrovarci in queste condizioni in alcuni casi come a Londra National Trust ha proposto anche alle persone per aumentare la loro consapevolezza e vivere meglio nel verde ha proposto dei piccoli esercizi di connessione con la natura che vanno da pochi secondi fino a 20 minuti su un programma spalmato su nove settimane ecco queste cose aiutano tantissimo la persone la popolazione a piano piano prendere contatto con le piccole cose della natura che poi andiamo a ricercare nei parchi nei giardini e questo è di grande aiuto anche per la nostra psiche e come ultimo esempio cito queste three things in nature cioè tre cose buone che si notano che possiamo notare in natura prendere un taccuino e segnare queste queste cose che ci colpiscono passeggiando in un parco in un giardino per la città perché in questo modo si attiva come prescrizione sociale proprio che possiamo offrire alle persone si attiva il senso di appartenenza il senso di connessione con quello che abbiamo attorno e questo esperimento svolto sempre nel Regno Unito ha portato grossi risultati ed è diventata una prescrizione sociale verde ripetuta più volte ecco questi sono alcuni dei criteri che io volevo comunicare ecco perché progettare uno spazio verde pubblico come dire è sempre un'operazione che ha un grosso contenuto sociale però siamo i primi come progettisti a dover sentirci umili in questo aspetto e calarci come ho detto prima nei panni del più debole in questo modo potremmo vedere la natura attorno a noi con un un atteggiamento diciamo così molto più vero e autentico di quanto non potremmo fare pieni di orgoglio della nostra professionalità l'atteggiamento biofilico anche nella progettazione degli spazi verdi quindi è benvenuto proprio per queste ragioni ecco concludo con le solite mie due diapositive perché ci tengo molto che è importante quindi non parlare solo ma è importante agire e Gandhi ce lo dice con questa frase molto semplice e ritengo che sia fondamentale che noi teniamo in considerazione che dobbiamo fare e dobbiamo fare col cuore per non ritrovarsi in questo mondo un po' un po' fantascientifico ma forse non troppo se non si procede con questo valore di fondo grazie 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 vi grazie tantissimo Marco Nieri una presentazione bellissima che ci ha portato nel contatto della umanità degli spazi verdi mi è piaciuta tantissimo questa definizione perché questo rapporto circolare tra tutti gli elementi della natura noi siamo elementi della natura e lo spazio che ci circonda deve diventare espressione di questa circolarità quindi veramente grazie io ringrazio tutti i relatori vedo che anche dal pubblico c'è proprio una un'attenzione particolare e soprattutto c'è l'attenzione verso questa prospettiva positiva che ci avete descritto di quanto effettivamente si può realizzare tutti noi abbiamo spesso un approccio passivo o pessimista rispetto a quello che ci circonda e invece la consapevolezza attraverso le vostre relazioni di poter fare si può fare probabilmente tante soluzioni sono anche alla portata di mano io avrei una curiosità da rivolgere a tutti i relatori questa prospettiva declinata nella vostra professionalità e quindi di attuazione di questa sinergia di questa circolarità dei diversi elementi della natura e quindi di questa interazione tra spazio individuo collettività e in quali termini a vostro avviso c'è un'adeguata preparazione del pubblico a scelte consapevoli in questo senso perché poi credo che il fino conduttore di tutti i vostri interventi si riconducano al concetto della scelta individuale collettiva della scelta pubblica e della scelta privata e quindi in quale direzione stiamo andando certo conoscere queste prospettive a mio avviso consentono anche di scegliere perché non c'è scelta senza conoscenza quindi qual è la vostra percezione rispetto all'implementazione all'attuazione di queste prospettive nella vita di ciascuno prego non so chi vuole è una curiosità ripeto affascinata dalle vostre prospettive dei vostri interventi parto io dunque a mio parere c'è una grande richiesta di qualità per quanto riguarda gli ambienti naturali e la fruibilità degli ambienti naturali adesso sto in questo ambito perché non voglio espandermi troppo c'è una grande richiesta che però passa un po' secondariamente diciamo così nella sua attuazione reale purtroppo per problemi di tipo economico io devo dire che tempo fa ho avuto rapporti con l'amministrazione comunale di Roma e c'erano in ballo cose molto interessanti che però che avrebbero fatto la gioia anche di tante persone ma purtroppo per problemi economici non si è potuto procedere e credo che ci sia questo grosso problema quindi innanzitutto questo poi c'è un problema di informazione generale anche della classe politica bisogna riuscire a passare a far passare un messaggio importante anche semplicemente in termini molto semplici proprio lineari se le persone vivono spazi verdi la natura con più assiduità con più consapevolezza ci sono meno spese mediche questo ormai è stato assodato e c'è richiesta c'è richiesta di questo tipo di immersioni nella natura anche nei boschi e di avere un verde di qualità ormai le città sono ambienti dove non si respira più dobbiamo trovare questi polmoni dobbiamo trovare il minimo spazio verde possibile deve diventare un piccolo giardino a disposizione di tutti quindi ci sono problemi economici problemi di consapevolezza della classe politica che spesso non prende iniziative perché non è sufficientemente preparata ci sono problemi anche di informazione dei cittadini delle persone quindi per esempio il fatto di poter salvaguardare il verde che hanno già e avere atteggiamenti rispettosi di quello che c'è sarebbe già anche questo un passo importante è incredibile per esempio nella mia città a Bologna passare nei prati dove sostano tante persone e vedere quanti rifiuti ci sono e questo fa perdere di valore l'ambiente l'ambiente si degrada un po' alla volta e si abituiamo al degrado questa è un'altra tematica importantissima e vabbè insomma sono alcuni ponti di vista che ho voluto lanciare ma vorrei anche sentire gli altri redattori dal loro punto di vista sì tra l'altro leggo un commento che proprio si rilaccia a quanto lei diceva i costi di una scelta di questo tipo che poi effettivamente probabilmente condizionano anche le politiche pubbliche anche qualche parola su questo per dare una reazione rispetto alla domanda intervenuta dal pubblico grazie si vuole intervenire volevo intervenire io bene concordo assolutamente con Marco e devo dire che ho riscontrato in tutta Italia i nostri territori sono dei capitali bellissimi quasi mozzafiato sia dal punto di vista ambientale che architettonico quindi si tratta di tutela come dicevo nell'una e nell'altra ho registrato anch'io nell'interfacciarci diciamo con pubbliche amministrazioni ma anche a carattere regionale una difficoltà alcuni sicuramente virtuosi che sono immediatamente operativi e colgono come dire delle azioni virtuose anticipano chiaramente e quindi accolgono le istanze tecnicamente quindi qui mi rifaccio anche a quello diceva Marco sulla preparazione sulla scientificità parliamo sempre di dialogo scientifico e non sono alcuni invece non sono assolutamente aperti e quindi io parlo anche di una lasciatemelo dire forte parola di cattiva gestione o comunque di gestione miope da parte dei dirigenti appunto dei dipartimenti regionali che non sanno attuare quello che in effetti magari il legislatore ha voluto incentivare abbiamo parlato di diverse normative importanti il GPP il PANGPP l'agenda 2030 nell'attuazione da una parte ci sono le azioni veramente come dire rivoluzionali che vanno sempre nella tutela della quantità di vita dell'uomo l'abbiamo sentita citare nei piani strategici nelle governance insomma ma in effetti quello che poi è carente è l'attuazione quindi intanto fare rete insieme tutti ognuno per il proprio ruolo ma c'è una debolezza e una resistenza da parte della da una parte dalla gestione politica perché sappiamo bene che al momento in cui non c'è una come dire visione globale politica e azione non innesca nessun come dire rinnovamento a cascata per quelle che sono le azioni giustamente non di routine ma da parte dei dipartimenti o comunque dei funzionari dirigenti e funzionari che a cascata devono nella visione rinnovata anche guardare il territorio ma dal punto di vista umano cioè dal punto di vista dell'uomo che vive dall'altra parte ho visto in maniera contrapposta in un momento anche di crisi che abbiamo passato nell'ultimo anno e mezzo diciamo di pandemia una rinascita da parte della gente che comunque che in generale il cittadino un grande risveglio ecco un grande rinascimento dove c'è ci si fanno delle domande si cerca di sapere vivere nella maniera più sana il proprio territorio e quindi parliamo di aree verdi appunto a cui faceva riferimento Marco ma anche della benessere abitativo cioè parliamo che l'inquinamento comunque colpisce interno esterno ma soprattutto ci diceva già l'organizzazione mondiale della sanità negli anni 90 già allora che i luoghi chiusi erano 5 volte più inquinati dell'esterno quindi l'attenzionare i luoghi di lavoro va bene ma dall'altra ci sono i privati gli utenti finali che hanno bisogno di attuare delle politiche ma non hanno come dire un'interfaccia se non quella virtuosa di un risveglio personale io devo dire che negli ultimi anni parlando del percorso dell'istituto in tutta Italia da 30 anni a questa parte quando un po' ci ridevano dietro perché quando parlavamo di questi temi forse era ancora un po' prematuro un po' presto però speravamo che senza fare allarmismo di poter scientificamente entrare in merito alcuni temi che si stavano aggravando siamo arrivati nella parte emergenziale e ci aspettavamo che ci fosse un incentivo da parte sia della politica uno sguardo diverso e non strumentale nei confronti del cittadino e quindi tra l'altro dell'anello debole che poi è il professionista che deve comunque sia della pubblica amministrazione che privato diciamo liberi professionisti che comunque sono poi quelli che sono sul territorio a lavorare nell'ingranaggio generale grazie farsi pionieri credo che sia importante su questi temi grazie il professor Barbiero vuole aggiungere una sua chiusa ma sì io penso a due cose fondamentalmente la prima è che c'è molto che si può fare e la seconda è che ci sono tanti giovani che hanno voglia di fare quindi se posso dire che effettivamente è una situazione di emergenza chiaramente questi aspetti adesso del cambiamento climatico ma ci aggiungerei l'agricoltura intensiva e soprattutto la perdita di biodiversità cioè del mondo selvatico questi tre aspetti hanno tanti margini di miglioramento e c'è una consapevolezza che sta crescendo secondo me molto molto velocemente margini di miglioramento pensiamo all'energia anzi alla potenza necessaria l'organizzazione Unite stima che il bisogno di potenza nel mondo sia costantemente di 17 terawatt ebbene sembra una cosa enorme una quantità di richiesta di energia fazzesca ma se uno poi pensa che la potenza effettiva che so del vento da solo è 80 terawatt molto di più di quello di cui avremmo bisogno il solare 580 terawatt molto di più di quello cioè gli spazi il problema è come utilizzarli utilizzarli in maniera intelligente l'altro elemento che mi sta particolarmente a cuore è l'elemento di per quello che i nostri studi stanno nostri intendo non del laboratorio ma della comunità scientifica che si occupa di questi argomenti che converge su un aspetto cioè il contatto con la natura non è una moda il contatto con la natura è un tratto evoluzionistico come il nostro naso e le nostre orecchie possiamo coprirci le orecchie per punta di non avere il naso ma tanto la respirazione passa di lì possiamo usare la bocca per un certo periodo ma la respirazione passa per il naso non c'è strada diversa il problema sarà come l'ultima vignetta suggeriva il collega Marco Nieri il problema sarà come far arrivare la natura nelle città perché ormai il destino sarà questo cioè i prossimi 15-20 anni si stima che il 70% degli abitanti del pianeta vivranno in ambienti urbanizzati non è una cattiva notizia in sé perché questo vuol dire che gli ambienti rurali saranno più liberi dalla presenza umana e noi in Italia lo vediamo già il lupo si sta diffondendo negli apennini perché gli apennini sono stati disabitati e si sono riservati quindi questo vuol dire che la natura è forte ce la può fare il problema sta a questo punto come riconnettiamo queste persone che sono urbanizzate questi bambini che devono nascere e vivranno in città dove la natura in questo momento non c'è ma non la vieta di pensare che la natura invada le città perché dobbiamo vivere in città brutte cioè non c'è nessuna ragione quindi io credo che ci siano enormi margini di miglioramento e soprattutto vedo che ci sono un interesse soprattutto nei giovani di cercare soluzioni ecco questi mi sembrano i due elementi con cui vorrei chiudere il mio intervento ecco grazie vi ringrazio moltissimo credo che sia in corso proprio un cambiamento culturale sia necessario sia in corso il percorso diciamo è tracciato ora sta a ciascuno di noi ecco portare avanti questa questo percorso di comunicazione di conoscenza di applicazione delle ricerche scientifiche perché l'obiettivo comune è individuato ecco è individuabile e credo che tutti i cittadini ne sentano l'esigenza quindi veramente grazie io continuerei purtroppo i tempi del webinar sono sempre un po' serrati però continuerei il dibattito con voi il confronto con voi siamo veramente molto grati del vostro intervento e dunque io ringrazio moltissimo per la partecipazione il il professor Giuseppe Barbiero la professoressa Anna Carulli il dottor l'architetto Anna Carulli chiedo scusa il dottor Marconieri grazie per il vostro contributo per la vostra disponibilità per la vostra generosa disponibilità ringrazio moltissimo Angelita Campriani vi diamo l'appuntamento per tutte le nostre attività Europe Direct siamo molto attivi ritorneremo con il viaggio a gennaio con altre attività che vi foroveremo attraverso i nostri canali social e anche in presenza Angelita ricordava che presto lo Europe Direct Roma 3 inaugurerà la sua sede il 22 dicembre qui a Roma e quindi attendiamo vostre visite per ancor più diciamo portare avanti questo dialogo virtuoso tra le istituzioni dell'Unione Europea e i cittadini di cui noi vogliamo essere un tramite e quindi grazie ricordo a tutti che idee proposte per dialogare con l'Unione possono essere caricate sulla piattaforma sul futuro dell'Unione Europea partecipiamo alla conferenza sul futuro dell'Unione come cittadini attivi perché possiamo plasmare l'Unione che vogliamo l'Europa la vita che vogliamo nella nostra Unione Europea quindi vi ringrazio moltissimo e saluto tutto il pubblico per l'attenzione e l'affetto con cui ci ha seguito in questi quattro incontri e speriamo di andare avanti sempre così grazie mille grazie a crederci